signori buongiorno e benvenuti sul canale del master kai io sono il master kai e sono stato sfidato billy boo del blog dietro lo schermo ha mosso delle critiche in un suo articolo su mio vecchio video e quindi io qui oggi secondo le antiche leggi di youtube sono qui per dissarlo il suo articolo quantisticamente parlando in realtà è anche scritto molto bene fa parte di una serie di articoli in cui lui analizza il concetto di agency dei giocatori e muove anche delle critiche abbastanza sensate al mio video quello anche di altri creator ma in realtà tutta la divulgazione in generale e prima di fare sto video ci sono sentiti appunto per chiedegli permessi gli ho anche fatto i complimenti perché effettivamente questa serie in particolare ma in generale il suo lavoro è un'ottima opera di divulgazione vi lascio l'articolo in descrizione così potete andare a leggerlo da soli fatelo perché merita ma non lascerò che la realtà rovini il mio dissing quindi preparatevi perché questa settimana assisterete al ritorno del troll quantistico perché troll quantistico e non ogre qua dai seriamente ov e quantico fa schifo non è che stia qui a perdere tempo rapido riassunto per far capire a tutti di cosa stiamo parlando il troll quantistico è una tecnica di mastering una di quelle cose che chiamiamo la scatola degli attrezzi del game master e nella fattispecie e il master ha bisogno di inserire uno specifico elemento all'interno della narrazione quindi con un escamotage farà in modo che indipendentemente da quale siano le scelte che i giocatori faranno durante la loro storia questo elemento venga inserito in maniera forzosa in pratica i giocatori non potranno scegliere se avere o meno questo elemento ma solo il contesto in cui questo elemento avverrà l'esempio classico che poi è quello che dà il nome alla tecnica è che il master vuole che i giocatori incontrino un troll quindi indipendentemente dalla strada che i giocatori avranno dichiarato di voler fare il master semplicemente descriverà che lungo il loro percorso incontrano un troll tutto questo è spiegato in maniera molto più approfondita sia nell'articolo di dietro lo schermo che vi lascio il link qui sotto ve l'ho già detto ma anche nel mio video sul troll quantistico che vi lascio linkato qua in alto se dovete andarlo a recuperare non perderemo tempo adesso per questo video è già lungo anche perché una delle critiche muove l'articolo è proprio quella che molto spesso quando si parla di tecniche di mastering di questa tecnica in particolare ci si dilunghi troppo sullo spiegare cos'è e come si applichi al gioco ma non perché bisogna applicarla e soprattutto quando non bisogna applicarla quindi noi siamo qui oggi proprio per rispondere a queste critiche nel mio video originale io mi limitavo a dire che il master potrebbe voler inserire il troll quantistico per esigenze di trama che come dice l'articolo può voler di tutto può voler di niente sì infatti la cosa è voluta sia io che tutti quelli che hanno trattato l'argomento su youtube fuori nel corso degli anni non andiamo a scendere nei dettagli proprio perché le possibilità sono talmente tante virtualmente infinite che farne una trattazione anche solo superficiale sarebbe un lavoro enorme e alla fine inutile partite dal presupposto che ogni tavolo e ogni master sono comunque una storia se per quanto possano esserci delle tecniche ricorrenti delle best practice che è meglio utilizzare e altre che è meglio scoraggiare alla fine ogni gruppo il gioco e ogni master avrà le sue preferenze quindi quello che è indispensabile da inserire per me potrebbe non esserlo assolutamente al vostro tavolo e magari essere qualcosa di carino ma se ne poteva fare anche a meno al tavolo di un altro ogni gruppo di gioco ha le sue preferenze il master sviluppa il proprio stile in base alle preferenze del proprio tavolo quindi qualunque cosa potrebbe essere una cosa assolutamente necessaria da inserire per dirla in poche parole io nel mio video non vi ho detto quando utilizzare il troll quantistico perché io non posso sapere quando voi avrete bisogno utilizzare altro il quantistico io vi spiego cos'è e come si fa utilizzarlo poi voi con le vostre competenze la vostra esperienza come master deciderete se una determinata situazione potrebbe essere migliorata per il vostro tavolo contro il quantistico oppure no e questo non vuole neanche dire che quindi il suo uso è sempre indiscriminatamente giustificato perché se il master ha deciso che lo vuole utilizzare allora il master ha per forte ragione no potreste anche analizzare la situazione decidere che il troll quantistico o un'altra tecnica di masteraggio se per questo sia la cosa migliore da fare in realtà vi state sbagliando clamorosamente e avete rovinato la serata a tutto il vostro parti può capitare questo è uno degli incidenti del mestiere di fare il master noi che facciamo divulgazione possiamo spiegarvi come si guida la macchina poi sta a voi non utilizzarla per investire le persone se però è stato scritto un articolo proprio per criticare la mancanza di queste spiegazioni di questi esempi pratici vuol dire che la necessità in realtà c'era e quindi io sono qui oggi proprio per correggere questo sbaglio e rispondere alla critica billy bo nel suo blog divide gli incontri in incontri di informazione in cui i giocatori acquisiscono nuove nozioni nuove informazioni sul mondo di gioco e incontri di sfida in cui i personaggi vengono messi alla prova hanno la possibilità di fallire in quello che fanno ora non è la classificazione che usiamo noi normalmente sul canale però per semplicità di comparazione per questo video manteniamo questa struttura che usa il blog di dietro lo schermo diciamo che il metodo migliore per fornire delle informazioni ai giocatori è quello di dirgliele chiaramente in maniera esplicita di questo abbiamo già parlato in molti altri video ne parla anche il blog diciamo che possiamo dare per assodato che semplicemente dire le cose ai giocatori è il metodo migliore per comunicare le informazioni il fatto però è che semplicemente limitarsi a riversare informazioni sui giocatori prima del gioco o magari sospenderlo per dare informazioni durante una sessione da una parte potrebbe portare a un eccesso di informazioni e dall'altra potrebbe portare a l'infrazione della sospensione dell'uncleorità anche di questo abbiamo già parlato vi lascio il video qua andatevelo a recuperare in casi come questo il crawl quantistico può rivelarsi una tecnica molto utile per inserire nuove informazioni all'interno della quest o della campagna o magari per andare a ricontestualizzare delle informazioni che erano già state fornite ma che adesso devono essere rielaborate all'inizio della quest il re dice agli avventurieri di andare nel bosco e sconfiggere i banditi che assaltano le carovane questa è un'informazione che il master dai giocatori in maniera diretta magari anche fuori dalla quest vera e propria come meta elemento la quest inizierà con i giocatori già in viaggio per il bosco dopo che il re ha parlato con loro e gli ha dato la missione in realtà però non sono i banditi ad attaccare le carovane ma un gruppo di orchi che si è stabilito da poco nella foresta di cui il re non sa nulla e quindi ha dato per scontato che la colpa sia dei banditi e non aveva senso all'interno della storia che lui fornisse al party un'informazione che lui stesso non aveva una quest con delle premesse del genere potrebbe portare a vari risvolti interessanti e varie possibili scelte da parte dei giocatori una volta scoperto che non sono i banditi ma gli orchi ad attaccare le carovane potrebbero decidere di andare ad attaccare gli orchi perché sono loro i veri colpevoli potrebbero al contrario decidere di attaccare comunque i banditi e sconfiggerli tornare al re dire che hanno completato la missione farsi pagare sapendo che ben presto il re li richiamerà perché dato che i veri colpevoli hanno gli orchi gli assalti alle caravane non si fermeranno no non tutti gli avventurieri sono delle brave persone magari potrebbero anche pensare che se gli orchi vivono nella foresta assieme ai banditi e gli orchi sono aggressivi magari sono nemici anche dei banditi e quindi prima di andare ad attaccare gli orchi andare a parlare coi banditi e magari unire le forze per attaccare gli orchi tutti assieme possibilità virtualmente infinite ma tutte queste possibilità dipendono dal fatto che l'informazione ad attaccare le carovane sono gli orchi sia data agli avventurieri prima che loro arrivino alla foresta o comunque prima che loro attacchino i banditi il master potrebbe quindi prevedere un troll quantistico che sia all'incontro con qualcuno che possa dare questa informazione ai personaggi durante il tragitto che va dal castello del re alla foresta dato che quello che importa che l'informazione venga fornita ma non tanto chi sia darla o il luogo in cui questa informazione viene data il master potrebbe semplicemente lasciare che i giocatori decidano da soli qual è secondo loro la strada migliore per raggiungere la foresta e poi indipendentemente da quale la loro scelta a un certo punto del viaggio inserire un png coerente con la strada che hanno scelto di fare che gli avvisi in qualche modo che nella foresta ci sono gli orchi attaccano le carovane potenzialmente questo troll quantistico potrebbe avvenire anche nel caso i giocatori non percorrano proprio la strada perché hanno semplicemente deciso di rifiutare la missione magari loro sono amici dei banditi e quindi non vogliono andare a sconfiggerli e hanno rifiutato la missione del re sono andati a bere in locanda in locanda incontreranno qualcuno che si lamenta che gli orchi hanno attaccato la sua carovana a questo punto i giocatori potrebbero dire che se non devono attaccare i banditi ma gli orchi allora sono interessati a prendere la quest e ritornare a parlare con re questo è un singolo esempio che ricade nella macro categoria dei capovolgimenti di trama o colpi di scena ma senza il troll quantistico o l'informazione avrebbe dovuto essere data inizialmente e quindi la storia ne sarebbe stata impoverita perché non ci sarebbe stato nessun colpo di scena il re avrebbe detto andate nella foresta ci sono degli orchi e dei banditi indagate su chi dei due siano qualcosa del genere era sicuramente una quest ma non ci sarebbe stato il momento in cui i giocatori avevano potuto arrovellarsi su cosa era conveniente fare per loro sarebbe stata una quest diversa fermo restando che si è indiscutibile che se tutte le informazioni fossero date prima sarebbe stato effettivamente più efficiente e anche più facile da parte del master quando si applica il troll quantistico a una sfida si ha sempre l'impressione che sia una forzatura a parte del master i giocatori hanno trovato un modo per evitare il pericolo o diminuirlo significativamente e il master ignora tutto il loro ragionamento per inserire un pericolo paro paro a quello che era iniziale anche se loro si sono sforzati di cambiare le cose ora chiediamoci bene se i giocatori sono riusciti a trovare un modo per fregare la guardia e rubagli le chiavi alla porta e voi subito dopo gli mettete un'altra guardia e un'altra porta quella non è sicuramente una manovra decente e voi siete una brutta persona per averlo fatto va però detto che ci potrebbero essere anche dei buoni motivi per voler rafforzare un incontro perché effettivamente è necessario farle e probabilmente il più banale di tutti è che molti giochi hanno delle necessità nella meccanica legato agli incontri abbiamo più volte parlato del d20 system sul mio canale e in quel sistema che prevede punti esperienza ed equipaggiamento che servono a potenziare i personaggi e quindi permettergli a di salire di livello e affrontare incontri sempre più forti la maggior parte dell'esperienza e dell'equipaggiamento derivano proprio al fatto che i giocatori superino gli incontri se il party decide che vuole stare tutto il tempo chiuso all'interno della locanda senza andare mai ad ammazzare i mostri del dungeon semplicemente non potrà mai accumulare risorse non potrà salire di livello e la storia non potrà andare avanti ma magari ai giocatori gli piace di più gestire la locanda e non andare a combattere e allora non uso il d20 system che è un regolamento fatto per l'80 per cento di regole di combattimento e per il 20 per cento gestione dell'inventario fate anche attenzione che la tecnica del troll quantistico prevede di forzare un evento sul party non di forzare l'esito di quell'evento il master potrebbe mettere un troll indipendentemente dalla strada scelta dai giocatori questo non vuol dire che i loro personaggi dovranno per forza combattere quel troll potrebbero comunque decidere di scappare o di superare quell'incontro in un altro modo dopo tutto molto spesso situazioni in cui i giocatori si trovano in pericolo esistono perché questo rende effettivamente interessante la storia è una sfida che crea suspense e il ruolo del master è proprio quello di rendere interessante la storia per i giocatori e se le loro scelte renderebbero la storia estremamente banale inserire qualcosa per ravvivare l'atmosfera potrebbe essere esattamente la cosa migliore da fare il problema fondamentale con il troll quantistico è che è una tecnica che se viene applicata male in maniera impropria o viene abusata rischia di compromettere l'agency dei giocatori anche di questo si parla nell'articolo cioè la loro capacità di prendere delle scelte che abbiano un effettivo valore all'interno della storia e che porti una delle reali conseguenze dei cambiamenti nel racconto collettivo è ovvio che se ogni singolo scontro di una quest è un troll quantistico che avviene indipendentemente dalle scelte dei giocatori a quel punto i giocatori non hanno alcun motivo per compiere scelte all'interno della storia e quella quest è oltre che rovinata del tutto superflua ma questo non è un problema della tecnica del troll quantistico è un errore da parte del master nell'applicarla vale per il troll quantistico come vale per tutte le altre tecniche di illusionismo come vale in generale per tutte le tecniche di masteraggio se applicare male o abusare di una qualsiasi tecnica di masteraggio può portare delle cattive conseguenze per la storia la risposta corretta non è smettere di usare il troll quantistico o qualsiasi altra tecnica la risposta è quella di imparare a farlo bene e ragionare prima di inserire un elemento all'interno della quest e su quali conseguenze quell'elemento potrebbe avere comunque diciamo che adesso almeno il mio punto di vista in materia è chiaro io ringrazio billy boo che ha accettato il contraddittorio vi ripeto andatevi a leggere la sua serie di articoli perché merita ve li lascio qui sotto in descrizione e adesso come sempre la parola sta a voi scrivetemi qui sotto nei commenti se a voi è mai capitato di abusare il troll quantistico o magari il vostro master l'ha abusato su di voi o altre volte che applicando male una tecnica avete causato dei problemi o vi sono stati causati problemi in quest questo aiuta tutti quelli che passeranno a vedere gli eroi degli altri e si spera non rifarli per il resto se avete domande dubbi perplessità scrivetemi nei commenti qui sotto se il video vi è piaciuto lasciate un like condividete lo che aiuta crescere il canale iscrivetevi e scacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate anche i link dei social del canale dove metto io manualmente gli avvisi quando viene pubblicato un video io sono il master cae e noi ci vediamo al prossimo video